Tanto vento, tanto vento sabato qui nella zona delle Dolomiti e noi per te le città siamo proprio venuti qui nel Bellunese per darvi conto di quello che è successo. Abbiamo registrato anche queste immagini esclusive che state vedendo in questo momento. In prima battuta abbiamo registrato questa neve che si stacca dal monte Sorapis nella zona di San Vito di Cadore. Come potete vedere queste nuvole che si formano non sono delle nubi vere e proprie ma sono delle nuvole proprio di neve che vengono spostate dal forte vento, raffiche anche di 120 km orari. Dall'altra parte invece della vallata, come potete vedere in queste immagini, ci sono le tofane. Questa grande nuvola di bianca che vedete non è ancora una volta una nuvola vera e propria ma si tratta di neve che è spazzata dal vento. Questo per dare l'impressione della difficoltà che si sono venuti a creare nelle montagne e questo ha comportato anche la chiusura degli impianti di risarita. È stato chiuso per esempio la funivia che porta le tofane, la funivia che porta il Faloria e anche quella delle Cinque Torri. Per strada tanti rami che si sono staccati dagli alberi e che hanno colpito anche delle automobili, ma soprattutto che hanno imbrattato le strade, la statale 51 verso Cortina. Già domenica invece, come potete vedere adesso in queste immagini, splende un bellissimo sole qui a Cortina. Gli sciatori hanno ripreso la loro attività e tutto è tornato alla normalità.